No, io volevo intervenire su quello che stava dicendo Simona, in effetti la lingua, io sono d'accordo con Leonardo, è relativo al problema, il problema di questo allenatore è che arriva proprio da un'altra situazione, cioè vive in un altro mondo, l'Olanda, stai parlando di fuso radio diverso, cante cose, sono lo stesso, lo sta dicendo, l'Olanda ha lo stesso Siamo sicuri? Ma voi pensate veramente che questo non conosce i giocatori? Ma che se io nemmeno? No, io nemmeno, non lo sta dicendo, è quello il problema